E siamo qui in via Savona davanti al cinema più piccolo del mondo e la sala è l'abitacolo di questa Alfa Romeo Berlina 2000 del 1974 dove, pensate un po', si proiettano esclusivamente cortometraggi di giovani autori italiani e l'idea nasce da Francesco Azzini, fiorentino, 38 anni, professione tecnico del suono ma autore di cortometraggi per passione. L'idea è nata nel 2006, ero al volante di questa macchina e stavo andando all'ennesimo concorso di cortometraggi. Come Nanni Moretti affittò la sala, una sala di cinema, io me la creo perché non ho i soldi per affittarla e quindi ho inventato il cinema in macchina praticamente. Siamo stati da Potenza, Torino, Roma un sacco di volte, Firenze dove è nata chiaramente l'idea, Milano. Sono gli spettatori stessi che scelgono di vedere il corto. Quest'anno c'è anche la possibilità di sceglierlo tramite il destino. C'è un'ampolla, ci sono tutti i corti in versione cartacea, quindi uno mette la mano, estrae il corto e lo vede. Se no, io sarei, fin dall'inizio del progetto, il metra pensiero del cortometraggio. Ma vediamo più da vicino di che cosa si tratta. Il titolo di questo corto è Firenze dall'immobilismo all'immobiliarismo. Vediamoli insieme. Il titolo di questo corto è il titolo di questo corto è il titolo di questo corto.